Ognuno di noi si avvicina al presepio che trovi a casa sua o nella chiesa, dove sia, e cerca di fare un atto di adorazione dentro. Io credo che tu sei Dio, che questo bambino è Dio. Per favore, dammi la grazia dell'umiltà per poter capirci. Senza umiltà non troveremo mai Dio, troveremo noi stessi. Perché la persona che non ha umiltà non ha orizzonte davanti, ha soltanto uno specchio. Guarda a se stesso, guarda a se stesso. Chiediamo al Signore di rompere lo specchio e guardare oltre. all'orizzonte dove è Lui. Ma questo deve farlo Lui. Darci la grazia e la gioia dell'umiltà per fare questa strada. O come, let us adorare in Christ the Lord. All'istituto. 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 Grazie a tutti.